Ciao ragazzi, a grande richiesta giro questa nuova copy-analisi che riguarda una sales letter che è stata scritta da un copywriter di assoluto livello e è stata anche poi revisionata da il copywriter numero uno al mondo che è di Stefan Giorgio, infatti questa offerta è la sua. È una sales letter che vende un prodotto per il dimagrimento, si tratta delle goccine, essenzialmente un integratore per aiutare a perdere peso e il fatto interessante è che questa sales letter è stata lanciata a, se non ricordo male, gennaio del 2020 e a marzo del 2020 stava facendo già 2 milioni di dollari al mese, cioè ragazzi pensate un attimo che cazzo significa, cioè guardatevi intorno, pensate a quante persone hanno un'azienda che fattura 2 milioni di dollari al mese, che sono 1 milione 8 di euro al mese e cosa vi immaginate quando pensate a 1 milione e 800 mila euro al mese di fatturato, magari immaginate una fabbrica, vi immaginate decine e decine, centinaia anzi di dipendenti quasi, no? Immaginate qualcosa di atomico, rischi giganteschi, vi immaginate delle robe impressionanti, questo è quello che mi immaginavo io però quando ho visto cazzo che una singola pagina web, in realtà sono 3 perché c'è una pagina web e ci sono 2 upsell, possono permettere di portare dei risultati così allucinati ma in tempi così brevi, cazzo, ripeto, gennaio sono partiti e a marzo stavano facendo questi volumi, quindi è qualcosa veramente di, in inglese si direbbe mind blowing, quindi ti fotte il cervello, è una cosa allucinante che ti apre anche le visioni, la visione delle cose ti apre un mondo di opportunità, ti fa capire quello che è possibile fare in questa industria con il copy, con offerte online, diciamo, quando sei veramente al top delle tue abilità, delle tue competenze. Questa offerta nello specifico è stata lanciata attraverso gli affiliati, è stata lanciata attraverso offerte affiliato, gli affiliati chi sono? Sono delle persone magari che hanno delle liste o delle persone che gestiscono i canali di traffico, di acquisizione clienti per te e tu gli riconosci una percentuale fondamentalmente. E adesso vediamo esattamente come è strutturata ancora una volta un'offerta in inglese, che tradurremo, che funziona nel mercato americano, ma comunque i principi ancora una volta sono quelli in tutto il resto del mondo. Ok, quindi l'ho trovata estremamente illuminante, il copywriter che l'ha scritta è un fenomeno assoluto, spero che troverete anche voi degli spunti interessanti, mi auguro che, insomma, cambierà anche voi il vostro modo di scrivere, il vostro modo di approcciarvi alla scrittura di nuovi pezzi, anche i vostri obiettivi in generale, ok? Per finire, ragazzi, ok, America 2 milioni di dollari al mese, in Italia non si fa un 2 milioni di dollari al mese, qualcuno mi ha mosso un'obiezione di questo tipo, ragazzi ricordatevi che voi non siete costretti a lavorare dove siete nati, ok? Quindi va bene lanciare l'oro in Italia perché è molto più semplice, questa è la verità, in Italia le offerte possono funzionare anche se non sono perfette, perché? Perché i costi sono infinitamente inferiori, anche se la gente guadagna meno dell'America, i costi sono inferiori, quindi è più semplice lanciare un'offerta, ma una volta che funziona, cazzo ragazzi, pensate all'esportazione come minimo in Europa, ok? Questo è quello che stiamo facendo noi personalmente quest'anno, quindi pensare allargare i propri orizzonti, ok? È vero che in Italia è difficile arrivare a cifre di questo tipo con una sola pagina, di vendita o quello che è una sola offerta, è praticamente impossibile perché non c'è abbastanza, diciamo, non c'è abbastanza massa critica, però se voi iniziate allargare i vostri orizzonti e pensate all'Europa intera, allora questo diventa molto più probabile, ok? Quindi imparate i principi, lanciatevi, abbiate successo in Italia, è il successo che vi pare, poi se volete puntare ancora più in alto, se volete arrivare alle stelle, cazzo, non limitatevi l'Italia, ma pensate alla conquista dell'Europa intera. Quindi ragazzi vi lascio al pezzo e ci vediamo tra poco. Ok, il pezzo come al solito è sempre inglese e noi lo traduciamo in italiano e vediamo che cosa dice. Allora c'è una pre-headline, attenzione, donne sopra i 35 anni, stanche di fare una dieta senza fine, esercizio fisico e contare le calorie? Come un'umiliante riunione del liceo ha portato una donna a scoprire il Bio Harmony Switch e finalmente vincere la battaglia con il suo girovita. Allora qua vediamo che ci sono già un sacco di elementi interessanti. Prima di tutto c'è del gossip, un'umiliante riunione, perché un'umiliante riunione del liceo, io direi di scuola, no? Tante donne quello che fanno quando hanno una certa età sopra i 40, magari anche sopra i 30 in realtà fanno queste riunioni magari delle scuole superiori, delle medie eccetera eccetera. Quindi riunione scolastica o riunione delle superiori, con le amiche delle superiori eccetera eccetera, una roba del genere filerebbe meglio in italiano. E dal mio punto di vista molte donne si riconoscerebbero. Quindi una situazione tipica, perché è umiliante, no? Quindi c'è un elemento di curiosità. Poi c'è questo scoprire il Bio Harmony Switch. Bello il nome, quindi l'interruttore Bio Harmony sarebbe. Quindi di cosa si tratta? Non si capisce. Però da quel non so che diciamo di curiosità, il Bio Harmony Switch, che è collegato comunque al beneficio finale. Finalmente vincere la battaglia con il suo girovita. Quindi questa è la 6 letter che è stata creata per andare su Facebook. Nienche se c'è un prima e dopo che non è compliant, il resto è compliant. Insomma è cercato e pensato per essere compliant. E quindi infatti non ci sono perdere 5 chili in 10 giorni o quello che è. Quindi vincere la battaglia con il suo girovita. Quindi molte donne sono in battaglia con il loro girovita. E quindi semplicemente ha continuato la conversazione in atto nella mente del potenziale cliente. Parla un linguaggio in cui loro si ritrovano. E' anche interessante guardare la grafica di queste 6 letter. Quindi se la guardiamo velocemente anche qua. Questa non è compliant neanche questa immagine. Considerate che la maggior parte delle vendite di questa offerta, per quello che ne sapevo io, sono venute dall'affiliazione. Quindi traffico affiliato. Le persone spingevano questa offerta perché convertiva di brutto dalle email, insomma. Per quanto riguarda Facebook però non sono sicuro che abbia mai preso il volo. Questo non lo so onestamente. Andiamo avanti. Questa semplice soluzione viene utilizzata da centinaia di donne in tutto il paese per sciogliere il grasso, ripristinare il loro corpo snello e rendere i loro amici verdi di invidia, le loro amiche in italiano sarebbe. Quindi, allora, i benefici sono tre. Abbiamo sciogliere il grasso, ok? Ritrovare il loro corpo snello. Quindi stiamo già parlando delle persone che hanno una certa età, non sono più giovani, che sono state snelle in passato, e rendere le loro amiche verdi di invidia. Quindi tira fuori anche un discorso di miglioramento sociale in un certo senso, no? Quindi come le altre persone ti vedranno. E mi chiamo Scarlett Peralta. Nei prossimi minuti ti racconterò un'umiliante storia vera della mia quindicesima riunione del liceo. Quindi precisione, specificità. È stato il momento in cui mi sono trovata faccia a faccia con il fatto che era in sovrappeso e tutti potevano vederlo. Quindi qua abbiamo dell'imbarazzo. Sinceramente era difficile non vederlo. I miei rotoli di brutto grasso sulla panza erano accasciati l'uno sull'altro. Il mio collo era scomparso, inghiottito da troppa carne. E il grasso... Grasso sciolto... And the loose fat. Ok, il grasso mollizzo, diciamo, pendeva dalle mie braccia come se stesse cercando di scappare. Guardate che bella questa descrizione. Cioè, quanto è vivida. Non è semplicemente ero grassa, avevo il grasso sulla panza, avevo il grasso sulle braccia, eccetera, eccetera. No. I miei rotoli di grasso orrendo sulla panza erano sempre accasciati l'uno sull'altro. Non so se è accasciato... Slumped over its other. Non saprei una traduzione migliore in italiano. Però, insomma, dà specificità a questo grasso sulla pancia. E vividezza. Il mio collo era scomparso, inghiottito da troppa carne. È inghiottito da troppa... Quindi, ti fa proprio visualizzare questa donna con il grasso sul collo, appunto. E il grasso mollizzo e pendeva dalle braccia come se stessero cercando di scappare. Bella questa similitudine. Ma dopo quella notte non ho potuto continuare a mentire a me stessa. I vestiti che avevo comprato solo l'anno prima ora mi pizzicavano profondamente nei fianchi mentre si sforzavano di trattenere tutto. Quindi stringevano nei fianchi. Guardate che bella questo tipo di comunicazione. Ricordatevi, ragazzi, che il lead, quindi la prima parte del pezzo, è la cosa più importante che c'è. Quindi queste righe che stiamo leggendo adesso, dalla headline, pre-headline, tutta questa roba qua, sino è ancora avanti, insomma, altre righe avremo, sono la parte più importante del pezzo. Quindi i termini sono scelti con straordinaria precisione. Le immagini sono curate nei minimi dettagli, perché deve avere un impatto sta roba. Le persone, immaginatevele, che cliccano su un ad o un'email e sono distratte, non hanno voglia di leggere pubblicità, non hanno tempo, se loro potrebbero benissimo andare su Netflix e guardare qualcosa di interessante per distrarsi. Però stanno guardando, scelgono di guardare, di leggere un annuncio. Questa è una sales letter, una video sales letter. Quindi scelgono di leggere una sales letter. E perché lo fanno? Perché questa sales letter deve essere super interessante, deve coinvolgerti in maniera profonda, ok? Perché la competizione, non solo quella diretta, anche se quella diretta è già gigantesca, ma soprattutto quella indiretta, quindi abbiamo detto Netflix o Facebook o Instagram, qualunque altro tipo di cosa che loro possono fare anziché dedicare il loro tempo a leggere questo annuncio, cioè è fortissima, ok? E' sempre lì in agguato che può distrarli da leggere, consumare il vostro messaggio di marketing. Quindi il lead, insomma, è la parte determinante, quella che le persone leggono e decidono sulla base di quello che hanno letto se continuare a dedicare attenzione o meno, ok? Quindi questa è la prima parte, la parte più importante in assoluto. Quindi, abbiamo detto qua, immagine concreta. E ogni volta che accadevo a Facebook, vedevo vecchie immagini che mi ricordavano quanto ero sexy, ok? Bella questa parte qua, perché si vede già che dietro a questo pezzo c'è una ricerca eccezionale, nei minimi dettagli del target, del potenziale cliente. Quindi una persona, una donna di una certa età, in sovrappeso, che magari apre Facebook, appunto c'è le foto di quando era una ragazzina, e magari era snella. E questa cosa gli dà fastidio, no? Quando Facebook condivide ricordi, eccetera, eccetera. E vede che era magra. E lei prova sofferenza per questa situazione qua. E si vede che il copyright, ragazzi, questo ancora una volta è un pezzo di un milione al mese. E un pezzo di un milione al mese non può essere costruito in modo casuale. Deve essere ingegnerizzato fin dai minimi dettagli. E il copyright era fatto i compiti a casa. Ha svolto una ricerca estremamente profonda. Oltre a scegliere, ancora una volta, termini precisi per quanto riguarda le descrizioni, ha fatto i compiti a casa perché sa esattamente cosa enfatizzare nel copy per portare a destinazione al messaggio, per creare un impatto nella mente del potenziale cliente. Andiamo avanti. Ho raggiunto il mio punto di rottura. In quel momento ho deciso di perdere grasso, il mio grasso in più, ripristinare il corpo, sì, riconquistare il corpo snello e sexy che avevo una volta. E ragazza, te lo dirò, bella anche questa terminologia, no? E ragazza, Parlo con te, nel senso è intimo come comunicazione. Te lo dico, è stata la decisione migliore della mia vita perché ha scatenato una lotta disperata per perdere peso che ha portato alla scoperta di un incredibile, insolito segreto per perdere peso. Qualcosa che mi ha aiutato a tagliare i chili di grasso brutto e fastidioso con pochissimo sforzo. Allora ragazzi, facciamo un passo indietro perché tutte queste parti qua, ci sto mettendo tanto, lo so, ma è così che si analizzano i pezzi, no? Dobbiamo veramente ragionare su quello che il copywriter sta facendo. Quindi è partito, headline, che racchiude una storia e la scoperta, e promesse. Quindi qui abbiamo una promessa, qui abbiamo un accenno alla storia, una descrizione di quanto lei era messa male, quindi per creare empatia con il potenziale cliente. poi, qui ancora una volta, qui continua a, diciamo, creare empatia con il racconto di come era messa male, di quanto soffriva, e poi il punto di rottura, quello che ha fatto, e adesso ecco cosa c'è per te. Ok, tutto questo, tutto questo problema, che affronta nell'inizio la storia, poi porta a una risoluzione che è, insomma, qualcosa che ti interessa, se vuoi perdere peso. Ok, quindi questo incredibile, insolito segreto, non è un segreto normale, ma incredibile e insolito per dimagrire. Qualcosa che mi aiuta a tagliare i chili di grasso brutto è fastidioso con pochissimo sforzo. Quindi anche questa cosa qua, pochissimo sforzo, non devi farti il culo per perdere peso. Guardate anche l'immagine come aumenta, diciamo, la forza del pezzo. Adesso vediamo, entra nella storia. Quindi il lead è molto molto breve, ok, in questo caso. Di solito si dice, ah, ciao, sono XYZ, nei prossimi minuti ti racconterò questa roba qua, scoprirai questo, ma non si tratta di questo, si tratta di una cosa diversa dal solito per queste ragioni qua, e quindi rimani con me, eccetera, eccetera. No, questo è il solito tipo di lead, quello standard che si utilizza, mentre questo tipo di lead utilizzato è molto più diretto al dunque. Quindi semplicemente io ero così, soffrivo in questa maniera, e ho scoperto un segreto. Basta, c'è solo qua, è proprio super diretto al dunque. Questo è anche uno dei vantaggi di avere una storia forte, che la puoi mettere immediatamente in alto nel pezzo, perché sai che ti aggancia. Vedi, tre mesi fa sono entrata nella mia riunione del liceo. Non ci vuole molto prima che iniziassi a parlare con i vecchi amici, quindi la riunione del liceo sarebbe una cena, diciamo, dei compagni di classe del liceo. Non ci vuole molto prima che iniziassi a parlare con i vecchi amici, poi ho visto Sophie Baker, la mia vecchia migliore amica. Guardate anche i dettagli. Ero così entusiasta nel rivederla. Facevamo tutti insieme, anzi, ci somigliavamo anche. Guardate che bella questa parte, no? Quindi, da una parte inizia con la descrizione del mondo tra virgolette esteriore, nel senso, quello che succede, sono qua, riunione del liceo, inizia a parlare con le persone, poi vede questa amica e inizia la descrizione del mondo interiore, quindi lei è quello che pensa, quello che prova di questa amica. Ti dà del contesto, quasi come se fosse un romanzo, questo è fondamentalmente un romanzo, quindi ecco perché chi è in grado, i copywriter che sono in grado di scrivere dei romanzi, padronezzano quel tipo di scrittura lì, hanno veramente un altro tipo di marcia quando poi vanno a scrivere ed è una skill appunto che ogni top copywriter dovrebbe apprendere. È lunghissima, è difficilissima, ci fa un sacco di tempo, però i benefici sono giganteschi. Quindi, oh mio Dio, stava benissimo quando è entrata nella hall quella notte, Sophie era appena cambiata dai tempi del liceo, era ancora così bella, così magra, come la ricordavo da sempre, non ci vuole molto perché qualcuno la chiamasse, ha salutato tutti con un abbraccio e poi mi ha guardato, stavo sorridendo da un orecchio all'altro, non potevo credere di essere finalmente riunita con la mia migliore amica, ma quello che Sophie ha fatto dopo mi ha lasciato senza fiato, mi ha umiliato. Guardate il teasing, guardate il teasing che crea, cioè, copywriter straordinario qua, cioè, questo è un pezzo meraviglioso. Quindi, teasing, mi ha umiliato, cosa è successo, cosa sarà successo, no? E poi la descrizione dettagliata, veramente da manuale. tuttavia, alla fine ha portato un incredibile segreto per perdere peso che può aiutare a sciogliere il grasso indesiderato senza diventare schiavo, schiava, dell'esercizio fisico, della dieta o del conteggio delle calorie. Quindi, guardate come gli ricorda sempre cosa c'è per te, ok? Inizia con la storia che ti prende, però poi, e ti lascia anche il loop, qua c'è il loop, qua c'è un loop che dice, ok, di cosa si tratta? Cazzo, sono lì agganzato, voglio sapere cosa succede adesso. E, però si ferma, guarda che troverai anche di benefici per te. Ok, si parla in questa lettera di perdere peso, non si parla di altro, cioè non stai leggendo solo una storia per intrattenerti come faresti guardando una serie tv su Netflix. Qua stai imparando anche qualcosa. Non appena mi ha guardato ho capito che qualcosa non andava. Il sorriso l'è caduto dal viso. Non ha cercato di abbracciarmi. Invece, si accigliò come se stesse pensando e è stato allora che ho capito. Non mi riconosceva. Mi dispiace è passato così tanto tempo non mi ricordo il tuo nome. Lei disse il mio stomaco cadde. Mi sono congelata e tutti mi guardavano. Il mio stomaco è caduto vediamo come si può tradurre. Che è bella potente secondo me. My stomach dropped. Vabbè, è come dire ho sentito come un pugno nello stomaco potremmo tradurla così in italiano. Mi sono congelata e tutti mi guardavano. Guardate cazzo come riesce a trasmettere le emozioni questo pezzo non è semplicemente non ha semplicemente detto ma guardate non mi ha riconosciuto che sarebbe stato un messaggio piatto. Qua ha creato un teasing meraviglioso in questa parte qua che ti ha agganciato e dopo ha descritto esattamente quello che è successo. Non ha detto semplicemente non mi riconosceva guardate quanto ci ha messo a dire che non la riconosceva. Mi ha guardato e io ho capito che qualcosa non andava. Quindi è una descrizione come se lei stesse descrivendo un come se fosse lo script di un film una scenografia come se tu stessi descrivendo una scena di un film appunto il sorriso l'è caduto dal viso bello anche dire il sorriso l'è caduto dal viso e non ha cercato di abbracciarmi come lei appunto si stava aspettando quindi proprio una descrizione visuale di quello che succedeva invece ci accogliò come se stesse pensando eccetera eccetera quindi non mi riconosceva andiamo avanti come poteva dimenticare la sua vecchia migliore amica poi mi ha colpito stavo trasportando molti chili extra molti chili extra dal liceo non aveva la più pallida idea di chi fossi e anche se nessuno lo diceva sapevo cosa stavano pensando tutti si è lasciata andare potentissima questa frase ok si è lasciata andare allora guardate quante cose ci sono in queste poche righe ragazzi io potrei andare avanti credo 10 ore ad analizzare questo pezzo quindi magari adesso mi do un attimo una mossa però vorrei un attimino che vi soffermaste su quanto quanto significato ci sono in così poche parole ok inizia a essere forse più chiaro il motivo per cui questo pezzo fa 2 milioni al mese no cioè è veramente un capolavoro qui dice questa parte soprattutto qua abbiamo della vergogna ok cioè della pressione sociale anche se nessuno lo diceva sapevo cosa stavano pensando tutti e questo è uno degli incubi per le donne no perché voi pensate una donna che si è che ha preso peso le donne di solito si curano tutte cioè l'impressione è importante delle altre persone no quindi si truccano passano ore a prepararsi eccetera eccetera quindi l'ultima cosa che una donna vorrebbe sentirsi è che gli altri pensano che lei si sia lasciata andare ok e qua mette il leva benissimo questa questo paura questa sensazione si è lasciata andare non si è è ingrassata ok guardate ragazzi quanta profondità cazzo c'è ci sono in così poche eroghe adesso vi do mi do una mossa perché sennò veramente andiamo avanti ci mettiamo un anno a finire questa sales allora corsi fuori dal corridoio mi chiuse chiave nel box del bagno più vicino le lacrime mi scorrevano su dal viso ho guardato in basso ho guardato in basso ho visto il mio stomaco gonfiarsi attraverso il vestito diamine avrei potuto prendere una manzata se volevo non potevo più ignorarlo non ero la stessa ragazza snella che ha lasciato il lezio in effetti non ero solo sovrappeso avevo strati extra di grasso disgustoso che pendevano dal mio corpo in quel momento ho ricordato come avrei sempre evitato di guardarmi nuda allo specchio dopo la doccia e indossato sempre magliette larghe e grandi jeans per colpire il corpo di cui mi vergognavo quindi anche qua c'è un un livello di comprensione del potenziale cliente che è gigantesco ok non è semplicemente sei grasso devi dimagrire qua io spero che ragazzi mi state seguendo e state diciamo intuendo che tipo di ricerca c'è dietro a questo pezzo cioè quanto il copywriter conosce in maniera intima la persona a cui sta parlando il suo potenziale cliente ok quindi le descrizioni poi sono vivide questa è una delle lezioni più importanti forse fino adesso è quanto è vivido questo pezzo ok cioè puoi vedere delle immagini chiare non sono semplicemente liste non è qualcosa diciamo che non ha un impatto emotivo sono proprio dei pugni uno dopo l'altro sono delle immagini che è come guardare un film ok stai leggendo un pezzo ma in realtà stai guardando un film stai guardando attraverso di esso e questa è l'abilità di questo copywriter per questi ultimi anni non ho mai guardato nemmeno abbastanza da vicino per vedere la mia pelle che si per vedere la mia pelle che si estende intorno al mio obelico cercando disperatamente di tenere il grasso dentro bella questa scena no? questa descrizione la pelle che si estende intorno al mio obelico che cerca disperatamente di trattenere il grasso il mento gonfiato che ha volto intorno al collo come una sciarpa spessa in inverno anche questa qui una sciarpa spessa d'inverno nel collo quindi è bello che sta tutto lavorando per immasini e per similitudini per metafore ok? che è un tipo di comunicazione che ha un impatto tremendamente più forte rispetto a delle descrizioni piatte e mi piacerebbe ho sempre ignorato mi piacerebbe che cosa significa ah inventato di sentire ripestrano il resto non lo so ho sempre ignorato le pieghe di carne sciolta che penzolavano dalle mie braccia anche quando mi facevano increspare il resto del corpo quando mi muovevo non ha molto senso questa traduzione in inglese però ragazzi dall'italiano dall'inglese dall'italiano però insomma cercate di assorbire il significato di quello che sta facendo il copywriter certo sapevo di aver guadagnato un paio di chili all'anno dal liceo quindi un paio di libere sarebbero un paio cioè sarebbero un chilo all'anno dal liceo voglio dire non l'abbiamo fatto tutti è difficile rimanere in forma con due figli e lavoro part time non mi rendevo conto di quanto si aggiungesse questo è servito per creare empatia con il potenziale cliente è quello che lui pensa no? cioè non abbiamo tutti aumentato un po' di peso è come cerca di giustificare i suoi insuccessi in qualche modo e lo fa in maniera molto empatica è come se fosse un'amica che stia parlando con te sai com'è? a vent'anni potevamo saltare il dessert e perdere tre chili e mezzo in una settimana ora ti senti come se fossi senza speranza speranza contro il grasso fastidioso che continua a accumularsi sul tuo corpo e quando arrivi ai trent'anni ti sembra di ingrassare ancora più velocemente certo avevo provato ogni dieta questo esercizio è una moda quindi ragazzi facciamo un attimo un passo indietro qua continua a creare empatia con il potenziale cliente e ricalca la sua esperienza in questo modo ricalcando l'esperienza che sta vivendo il tuo potenziale cliente la sua esperienza di vita tu è come se gli stessi comunicando io ti capisco ok? io ho passato la tua esperienza so cosa vuol dire essere nei tuoi panni ed è una sensazione molto importante per un potenziale cliente provarla no? sapere che qualcuno dall'altra parte ti capisce che ha vissuto quello che tu stai vivendo ogni giorno ti inonda di speranze in maniera indiretta è molto più forte rispetto a dire guarda risolverò il tuo problema digli che tu sei stato lì e descrivere esattamente cosa significa essere lì è a una potenza molto più elevata perché il potenziale cliente sarà lui a determinare a di intuire diciamo che tu hai le chiavi per risolvere il suo problema perché conosci la sua situazione così bene perché sai esattamente cosa sta provando lui lo sai descrivere addirittura meglio di lui allora se sei così preparato è molto probabile che tu sai risolvere il problema che lo sta tanagliando questi sono tutti dei ragionamenti diciamo che il prospect fa libero inconscio per questo è così importante conoscere a meno di tutto il tuo potenziale cliente quindi andiamo avanti e qua invece inizia a distruggere la concorrenza ma non tanto la concorrenza ma quanto le soluzioni alternative che ci sono in giro che magari il prospect ha provato quindi o che sta considerando o che ha provato in passato e magari si sente un fallimento perché ha provato delle soluzioni in passato ma non hanno funzionato con lui e allora si sente in colpa per questo cosa oppure ne sta considerando delle altre però ancora non ha mosso i primi passi oppure ha appena iniziato a muoverli e andando a distruggere come sta per fare qui il copywriter in questo modo allora sta escludendo automaticamente entrambe le situazioni sia soluzioni future sia soluzioni passate soluzioni future significa focus su questa offerta perché ho qualcosa da dirti di importante e quelle soluzioni lì lasciale perderle invece focus sul passato significa ti sto giustificando i tuoi successi non è colpa tua ti sto togliendo la responsabilità dalle spalle che è fondamentale una persona che si sente in colpa per quello che non ha fatto diciamo non compra perché sennò pensa che succederà la stessa cosa anche questa volta zimfest atkins juicing quindi succhi keto weight watcher zumba kickboxing pilates qua sicuramente ha fatto una ricerca di quelle che fossero di quelle che erano le soluzioni più popolari quando una persona vuole perdere peso perderai un po' di peso ma non appena perdevo un po' di peso ma non appena avessi interrotto le intense ore di esercizio e il conteggio delle calorie il peso si sarebbe semplicemente accumulato di nuovo quindi cosa sta facendo qua sta giustificando ancora una volta la loro esperienza ok quindi negli ultimi anni ho semplicemente ignorato la mia pancia gonfia il grasso nelle braccia cadente e le gambe giganti bello cazzo la pancia gonfia il grasso cadente nelle braccia e le gambe giganti bella descrizione cazzo non si che dire il grasso di qua il grasso di qua il grasso di là no ha creato un'immagine molto più vivida concreta e potente per non parlare delle altre parti del sovrappeso che non ti aspetti ok qua cosa sta facendo con questa parte qua sta girando il coltello nella piaga ma non gli sta dicendo sei stanco di tenere sei stanco di questo problema sei stanco di questo problema no gli sta facendo una lista di quelli che sono i problemi che lei stava sperimentando e di conseguenza tu comunque soffri perché metti in evidenza comunque questi problemi qua nella tua vita anche se senza sollevare appunto le resistenze che tu avresti se una persona ti avesse detto guarda sei stanco di questa roba sei stanco di quest'altra no attraverso una storia in una maniera molto più elegante se vogliamo di presentare i problemi ed efficace anche quindi qua fa questa descrizione l'intenso l'intense voglia di cibo e l'appetito feroce che ti infestano che ti inseguono diciamo durante durante tutto il giorno poi vabbè qua ti parla heavy tired highs ok praticamente problemi di sonno quindi occhi pesanti stanchi perché non hai dormito eccetera eccetera non sentirti senza energia costante nerviamento mentale i dolori in giro per il corpo eccetera l'ho seppellito tutto nella parte posteriore della mia mente ma quando Sophie mi ha visto e non mi ha nemmeno riconosciuto mi ha colpito tutto in una volta ero infelice bellissima questa parte qua no quindi questa è una grande parentesi ok ragazzi questa è tutta una grande parentesi la storia è questa quindi lei Sophie eccetera eccetera questo è il punto di rottura la parte trasica poi tutta questa parte qua è un risirare il coltello nella piaga diciamo una descrizione di tutte queste sofferenze che lei stava sperimentando come ha gestito il problema quindi ha seppellito tutto nella parte posteriore della sua mente e poi però questa è stata come una doccia d'acqua fredda mi ha colpito tutta una volta ero infelice guarda anche le parole ero infelice non ero cioè in due parole è riuscito veramente a dire tanto cioè a descrivere in maniera perfetta la situazione ero infelice Sophie e io sembravamo gemelli all'inizio perché è ancora così perfetta quindi è una situazione che molte persone possono che molte persone nel suo target diciamo in cui possono riconoscersi quindi hanno un'amica diciamo del liceo delle superiori che è ancora così diciamo stupenda in forma eccetera eccetera mentre loro hanno perso peso questa probabilmente è una delle situazioni pitifiche del suo target non aveva la panza gonfia non indossava abiti per nascondere tutto e non ha mai avuto la vergogna di sapendo che tutti quelli che vedi non ha mai avuto la vergogna di sapere che tutti quelli che stai guardando pensano che ti sei lasciato andare ancora una volta dimensionalizzazione del dolore anche qua quindi sta ancora una volta battendo su questo problema su questo dolore per portare a destinazione il messaggio ok quindi questa parte qua una persona un copywriter normale l'avrebbe evitata non avrebbe ripetuto perché l'ha già detto in passato ok non aveva questo non aveva quest'altro non c'è bisogno di dire l'ha appena detto quindi questa è diciamo una mente ordinaria quello che penserebbe mentre un copywriter eccellente batte ancora più forte sulla ferita no quindi soffre ancora la ragazza snella che ha lasciato il liceo 15 anni fa certo si capiva adesso che aveva circa 35 anni ma con il suo corpo snella era bellissima sembrava così giovane non era solo soffia di avere un bel aspetto quella sera ok qua adesso espande il dolore e espande il senso di essere inadeguati una delle nostre altre amiche Elizabeth era sempre stata un po' cicciottella liceo ricordo che alcuni dei ragazzi la prendevano in giro eppure ora sembrava incredibile anche dopo tre bambini mentre un'altra amica Jenny aveva perso 15 kg lei stessa sembrava fantastica non riuscivo a crederci una volta ero una ragazza snella attraente con cui gli uomini cadevano cadevano per terra per ah che non potevano per cui gli uomini si innamoravano e non potevano fare a meno di flirtare ora mi sentevo invisibile quindi questa è una donna che una volta era attraente una volta era snella e ora invece si sente invisibile quindi una situazione in cui tante donne di mezza età si ritrovano non appena sono tornato a casa quella sera sono crollata tra le braccia di mio marito piangendo la mia voce tremava il mio corpo tremava e la mia manica era bagnata a fradice per tutte le lacrime che avevo asciugato bellissima questa immagine la mia manica era bagnata a fradice per tutte le lacrime che avevo asciugato non è semplicemente ho pianto a dirotto no la mia manica bagnata era fradice per tutte le lacrime che avevo asciugato guardate ragazzi come si dice i dettagli qua fanno la differenza ok cioè tra un copywriter diciamo mediocre tra un pezzo di copy mediocre e un pezzo di copy da 10 elode come in questo caso ragazzi vi ricordo 2 milioni al mezzo cioè qui i dettagli cazzo fanno la differenza guardate questo messaggio quanto è più potente scritto in questo modo gli ho spiegato cos'era successo disperato che lui mi dicesse che ero ancora ho spiegato cos'era successo gli ho spiegato cos'era successo ed ero disperata e speravo desideravo che lui mi dicesse che era ancora la ragazza hot la ragazza figa di cui si era innamorato per la prima volta mi ha risposto ti amo per quello che sei dentro faceva male ma non era colpa sua mi ha detto la verità ero triste e mi vergognavo ma in quel momento ho deciso di fare qualcosa al riguardo quindi questo è bello ti amo per quello che sei dentro è molto sottile come frase anche questa perché come dire non è quelle robe esagerate del tipo sei cicciona e fai schifo ti amo per quello che sei dentro quindi vuol dire che sta cercando di proteggerla anche da un certo punto di vista e fa ancora più male quando è così quando qualcuno non vuole dirti qualcosa direttamente perché teme di ferirti però sta nascondendo qualcosa questo è ancora più forte ok è ancora più difficile da mandare giù andiamo avanti quindi questo copywriter ancora una volta è anche un maestro diciamo di emozione umane per forza per riuscire a creare un pezzo del genere c'è una comprensione della mente umana che è sublime ok è un copywriter abile devi diventare anche un esperto diciamo di mente umana stavo per trovare un modo per combattere il grasso in eccesso e finalmente perdere peso per sempre quindi la prossima volta i miei vecchi amici sarebbero stati gelosi di me sapevo che era possibile perché abbiamo tutti un amico come Sofi che sembra fantastico anche con due bambini ho un lavoro impegnativo queste sono probabilmente le obiezioni figli e lavoro perché non riusci a metterti in forma figli e lavoro però c'è sempre quell'amica che sembra fantastica ok che appare fantastica se è possibile per lei è possibile per noi quindi mi sono mi sono buttata nel dimagrire mi sono iscritta ad un abbonamento in palestra e mi sono mi sono liberato ok e mi sono fatta al culo ho contato le calorie bevevo solo acqua e solo una settimana dopo avevo perso 2,5 kg ero così motivata e felice ma non è durato a lungo ok quindi la soluzione tradizionale funziona non è che non funziona un cazzo sarebbe falso non è che non funziona funziona però poi smette di funzionare questo ricalca l'esperienza di tante persone funzionava per un po' e poi dopo non ha più funzionato quindi c'è anche del candore quindi ammettere che la concorrenza tra virgolette la concorrenza funziona però poi dici anche tutta non è che funziona benissimo perché allora che il mio vaggio per perdere peso si è fermato bruscamente anche se lavorassi di più e riducessi più calorie la bilanza non si muoverebbe mi stavo letteralmente allenando ogni singola mattina per due ore fare giochi sul tapirulano usando l'ellittica sollevando pesi era difficile e non funzionava e il secondo è che mi sono preso un giorno libero quelle 2,5 2,5 kg hanno iniziato a strisciare su di nuovo mi è venuta voglia di arrendermi questa ragazzi dell'esperienza e io sono in questo mercato quindi lo so che molte molte donne hanno e il modo in cui è riuscito a distillare a cristallizzare la loro esperienza in così poche righe è ancora una volta spettacolare ma non potevo non quando Sophie la ragazza a cui somigliavo tanto all'inizio sembrava così fantastica quindi c'è uno spirito di competizione qua e sono contento di non aver smesso di cercare perché ho fatto un'incredibile scoperta che i centinaari di donne e uomini di ogni estrazione sociale ora usano per combattere il loro fastidioso grasso rassodare i loro corpi e avere un aspetto migliore che mai ok gli ricorda come va a finire la storia fondamentalmente ho passato settimana a cercare su web ho comprato tutte le riviste di perdita di peso che potevo ho anche provato integratori bus grassi come l'estratto di chicchi di caffè verde e la garcinia cambosa ma ancora niente ha funzionato quindi qua distrugge la concorrenza poi ho avuto un'idea ho avuto un'ultima possibilità di scoprire il loro segreto ho dovuto parlare con Sophie qualche istante dopo avevo trovato il suo numero di telefono online ero nervosa ma dovevo scoprire il suo segreto ho registrato il suo numero il suo numero e premuto il tasto chiamata bella questa questa parte ok non ho semplicemente chiamato ha descritto tutta la scena quello che è successo e sono scarlet per alta Sophie ha cercato di scusarsi immediatamente ma sono saltata indietro saltata dentro ma ho proseguito eravamo così uguali eravamo così simili ricordi come la gente pensava che fossimo gemelle sembra esattamente sembravamo esattamente uguali ma io beh sono grassa come fai a sembrare così fantastica a essere così fantastica il telefono t'acque pochi istanti dopo parlo di nuovo guardate il teasing che c'è in questa parte mi ha detto di prometterle di non dirlo a nessuno e che solo lei e alcuni dei nostri vecchi compagni di scuola lo sapevano Sophie mi ha detto che il segreto per perdere peso non era la chirurgia plastica o farmaci pericolosi ma la pena legali mi ha detto che una volta ha lottato anche lei con il suo fastidio grasso aveva provato tutto quello che avevo fatto anche io dieta esercizio eccessivo conteso le calorie eppure il grasso di Sophie ha cominciato a sciogliersi quando ho scoperto il B-Harmony Switch guardate ragazzi come introduce qua la soluzione la introduce in maniera come fosse un film perché come fosse un film c'è qualcosa di nascosto che nessuno ti ha detto qualcosa di segreto anche il modo in cui glielo rivela che tu non conosci ma che può cambiare la tua vita perché ha cambiato la mia vita questo è quello che passa da questo messaggio da questa parte da questo copy qua non è semplicemente mi ha detto che la soluzione era questa no il telefono tac pochi istanti dopo parlo di nuovo eccetera eccetera no c'è qualcosa di straordinario qua in più lei ha sofferto come te quindi non è dotata geneticamente non ha fatto la chirurgia non ha preso farmaci quindi questo è un'altra obiezione che potrebbe avere il potenziale cliente eh no magari questa faccia fatta la chirurgia no magari questa eccetera eccetera non ha fatto questo è riuscita quando ha scoperto il bioharmony switch l'interruttore bioharmony cos'è questo interruttore bioharmony è stato il lavoro del dottor Zain Zerling qua si introduce un dottore per dare credibilità Sophie lo ha definito il secondo uomo più importante che abbia mai incontrato dopo suo marito ecco guardate anche il modo in cui riesce a dare importanza a impatto ancora una volta a una persona non è semplicemente una persona molto importante no è il secondo uomo più importante che abbiamo mai incontrato boom qua ti lo fa ma teni in prospettiva cazzo questo dovrebbe avere qualcosa che è molto importante ora vi insegnare qualcosa di veramente molto importante mi ha detto che il dottor Sterling ha trascorso gli ultimi vent'anni a fondare più di cento delle più grandi cliniche di salute naturale in tutta Europa ovviamente all'inizio ero scettica ok ragazzi ovviamente all'inizio ero scettica perché dice questo perché se lei è scettica allora il prospect non lo sarà ok perché il prospect leggendo questa roba può dire sì vabbè ok sì vabbè potrebbe essere un'esagerazione è scettico il prospect quando legge sta roba ma nel momento in cui l'autrice si definisce scettica allora l'autrice è scettica per lui e lui può mettersi il cuore in pace ok può lasciare andare ok scettica lei allora va bene vediamo ok aspettiamo di vedere che cosa è successo ma Sofi mi ha detto che il dottor Sterling non è come gli altri cosiddetti esperti quindi questa è l'alternativa di dire so che poi potresti essere scettico in questo momento ma vedi il dottor Sterling non è come gli altri cosiddetti esperti se lui se il copierate l'avesse fatto così allora è come se l'autrice diciamo di questa saleslet l'autrice la protagonista stesse cercando di convincere il prospect che è molto meno efficace perché se una persona cerca di convincerti in maniera così diretta tu sei un po' lì col dire c'è delle resistenze no cazzo questo sta cercando di manipolarmi forse no mentre se è l'autrice che ascolta i consigli di un'altra persona allora questa questa influenza è indiretta e tu non hai queste resistenze no quindi lo scettico ma non è come gli altri esperti quindi non sono io che ti dico che non è come gli altri esperti è lei che me lo dice a me questo è il concetto ha detto che mentre altri medici dimagranti si concentrano solo sul far accelerare il metabolismo della tiroide questa è solo metà della storia e il dottor Sterling conosce l'altra metà ancora teasing questo è quello che loro hanno già sentito probabilmente era tutto ciò di cui avevo bisogno ho prenotato una chiamata con il dottor Sterling per il giorno successivo e stavo tremando per l'ecitazione quando finalmente è arrivato il momento della nostra chiamata dopo aver parlato con un addetto alla reception e aver aspettato in attesa per alcuni minuti alla fine il dottor Sterling ha risposto al telefono e mi ha salutato e mi ha chiesto come poteva aiutarmi Sophie Baker mi ha parlato del Bioharmony Suites ho bisogno di sapere di cosa si tratta si fermò mi dimenai sulla sedia avevo paura che il dottor Sterling non sarebbe stato disposto ad aiutarmi ma dopo una lunga pausa guardate qua il teasing che c'è cazzo improvvisamente ha iniziato a parlare molto eccitato e mi ha detto che mentre il corpo umano è incredibilmente complesso in realtà c'erano solo due organi che avevo bisogno di conoscere il primo è quello che probabilmente già conosci la tiroide ha spiegato che la tiroide controlla il metabolismo e quando rallenta diventa davvero difficile bruciare grassi ma questa è solo metà della storia quindi qua è dove la gente c'è la gente dice io sono ipoteroidea quindi faccio fatica a perdere peso molte persone in questo target quindi conoscono la tiroide e il ruolo sul metabolismo però lui ti dice tu conosci una parte è solo una parte del puzzle ti manca tutto il resto che adesso spiega e qui ti aumenta ancora di più l'eccitazione ti aumenta ancora di più il coinvolgimento nel pezzo perché tu pensi di conoscere delle cose il copierate non dice che quello che sei sbagliato no è giusto quello che conosci sulla tiroide il metabolismo eccetera però è solo parte del grande insieme e quindi tu inizi a maturare una speranza dentro di te che effettivamente risolvere il problema che hai è possibile se solo ascolti quello che lui ha da dirti mi ha detto che le ghiandole surrenali sono altrettanto importanti sono come triangoli delle dimensioni di una noce si trovano sopra entrambi i tuoi reni ha spiegato che sono responsabile del rilascio di un gruppo di ormoni chiamati glucocorticoidi e la sua incredibile scoperta è iniziata quando la Stanford School of Medicine ha studiato il motivo per cui questi ormoni stavano portando nel momento di peso in alcune persone quindi qua abbiamo credibilità inizia a citare gli studi quello che ha letto l'ha lasciato senza fiato vedi i ricercatori di Stanford hanno scoperto che i glucocorticoidi controllano l'interruttore che produce cellule adipose detto semplicemente più glucocorticoidi circolano il tuo corpo più peso guadagni il che significa che la tua vita aggiunge che la tua vita aggiunge ancora un altro centimetro le tue brazze le tue gambe diventano sempre più grandi il tuo stomaco si gonfia sempre più lontano da te bellissima questa parte qua questo è un promemoria che mi devo ricordare un promemoria che mi devo ricordare è questo che lui ha presentato il problema quindi i glucocorticoidi circolano il tuo corpo e più peso guadagni ok più ingrassi fondamentalmente però non si è fermato il copyright a dire più hai questa roba nel tuo corpo e più ingrassi no è andato oltre ha portato il termine astratto dell'ingrassare a qualcosa di estremamente concreto urgente grave che è aggiungere centimetri al tuo girovita braccia e gambe che diventano più grandi più grosse è bello anche la terminologia perché è semplice quanto significativa ok più grande non aumentano tanti dettagli che non servono a un cazzo no più grandi e basta e il tuo stomaco si gonfia è sempre più lontano da te è bello anche si gonfia più lontano da te crea un'immagine ancora una volta quindi dimensionalizza il discorso dell'aumentare di peso tuttavia significa anche che con meno glucocorticoide nel tuo sistema accade il contrario ragazzi ricordatevi una cosa un copywriter un bravo copywriter è un bravo insegnante ok importantissimo un bravo copywriter è un bravo insegnante e se voi a parte la traduzione diciamo dall'inglese all'italiano automatico che non è un ranche però se seguite quello che ha scritto questo copywriter si capisce benissimo che cosa vuole dire ok perché è come se stesse parlando un bambino di tre anni neanche cinque anni un bambino di tre anni gli sta spiegando robe complesse in maniera uno interessante e due semplice ok quindi ha dedicato questo paragrafo a spiegare di questi glucorticoidi in maniera estremamente facile e non noiosa anche se si parla di roba scientifica che è la cosa più noiosa che è di solito per le persone no no è interessante ed è super semplice quindi quindi dovete essere bravi a spiegare le cose ok e questo fa scuola questa parte qua andiamo avanti sono quasi caduta dalla sedia quando me l'ha detto dimensionalizza ancora bellissimo riesci a immaginare quanto sarebbe facile perdere peso se potessi letteralmente premio l'interruttore e fermare definitamente la produzione delle tue cellule adipose bella questa parte qua ok questa parte qua una persona meno brava nel copy l'avrebbe evitata ok avrebbe detto ok in realtà si sarebbe fermata qua un copy letter mediocre si sarebbe fermato qua più glotticolo il corpo più ingrassi ok più ingrassi basta no lui è andato oltre è andato oltre dimensionalizzando prima l'immagine di cosa significa ingrassare e poi dimensionalizzando invece a quello che succede nel modo opposto non tanto l'immagine ma l'emozione che ciò porta ok quindi come sarebbe se premio l'interruttore eccetera eccetera e poi guardate che va ancora avanti non dovresti essere ossessionato a tagliare i carboidrati o essere attenta su ogni caloria o fare qualsiasi cosa venda l'ultima dieta di moda non dovresti quasi ucciderti ogni mattina sul tapirulano potresti semplicemente premere l'interruttore e guardare il grasso sciogliarsi dal tuo corpo merda questa parte qua ragazzi è impressionante da quanto è potente e controintuitivo da un certo punto di vista ok perché se io avessi dovuto scrivere questo pezzo molto probabilmente non sarei andato così avanti come è andato questo copywriter ok dimensionalizzare in maniera così spettacolare questa parte dell'interruttore eccetera eccetera quindi da leggere e rileggere questa parte qua e il modo in cui riesce a dimensionalizzare ogni singola parte del pezzo fenomenale questa sales letter è meravigliosa tranne che questa ricerca di Stanford è stata pubblicata nel 2018 due anni fa ok quindi e le donne e gli uomini in tutta America stanno ancora lottando con la vergogna di cercare a perdere peso senza vedere alcun cambiamento sulla bilancia ecco perché il dottor Sterling è così importante mi ha detto che doveva fare un ulteriore passo avanti per sbloccare davvero potenziale di bruciare i grassi a cui la ricerca di Stanford ha accennato quindi qua ha fatto un'obiezione l'obiezione è ok se è vero quello che dici ed è così potente così incredibile questa ricerca di Stanford perché non l'ho sentito parlare prima perché non me l'ha detto il mio medico di base ok questa è l'obiezione a cui sta rispondendo e risponde in maniera molto intelligente perché perché manca un pezzo ancora una volta manca un pezzo del puzzle ed esattamente così che ha scoperto il BIO Harmony Switch di cui così tante persone sono già entusiaste vedi il dottore ha deciso di dare un'occhiata più da vicino ai glucocorticoidi nello studio nello studio in modo da poter comprendere perché questa ricerca non veniva ripetuta nel mondo reale la sua conclusione cercare di ridurre ogni glucocorticoide era semplicemente un approccio troppo ampio per essere efficace così ha deciso di concentrarmi su uno solo il cortisolo bella questa parte ok prima parla di questi glucocorticoidi glucocorticoidi diciamo che è la parte ampia ok quindi fa un collegamento a questa a questa parte qua del dello studio e della potenza che hanno queste robe qua eccetera eccetera e poi invece fa uno zoom e inizia a parlare del cortisolo è interessante adesso non ricordo onestamente come continua se questo è il meccanismo unico lo vediamo però il cortisolo diciamo è qualcosa di cui si parla spesso mentre quando tu parli di glucocorticoide questo inizia ad essere una roba nuova diversa dal solito non ho mai sentito parlare prima di cortisolo invece è molto più roba che le persone abbiano sentito parlare quindi forse per differenziare ha inserito anche questa parte qua andiamo a vedere però come continua potresti conoscerlo come ormone dello stress il medico l'ha studiato in una delle sue cliniche all'avanguardia per scoprire come potrebbe essere utilizzato per rietarti a perdere peso velocemente ha detto che ha lavorato lunghe giornate uscendo solo per andare a casa a dormire ma ne è valsa la pena perché il dottore era sconcertato dai risultati ha scoperto che il cortisolo indotto dallo stress ha un effetto diretto sulla tiroide più specificatamente ha scoperto che il cortisolo impedisce alla tiroide di aumentare il metabolismo e questo potrebbe essere il motivo per cui non stai perdendo peso come vorresti ancora qua cosa fa? dimensionalizza ok? dice che il cortisolo impedisce al tiroide di aumentare il metabolismo ok questo cosa significa? significa che questo potrebbe essere il motivo per cui non hai perso peso un copywriter distratto mediocre sarebbe fermato qua e avrebbe lasciato al lettore l'onere di immasinarsi questo cosa significava no? che impedisce ok impedisce la tiroide di aumentare il metabolismo ok il lettore deve pensare ok guarda questo è il motivo per cui non perde peso no lui invece non lascia nessun onere al lettore ok? tratta il lettore come se fosse un bambino e quindi gli dice esattamente questo cosa implica implica che questo potrebbe essere il motivo per cui non perdi peso ora so che potresti pensare non sono così stressato vero? la verità è che sei seduto su una vita di stress ok? qua molte persone effettivamente questa è l'obiezione l'obiezione è beh non sono poi così stressato alcune persone magari sono consapevoli dello stress molte altre invece non ne sono consapevoli quindi bisogna andare a fargli percepire il problema perché noi non vogliamo vendere solo a poche persone noi andiamo a vendere a qualunque persona o a qualunque persona impossibile però al maggior pubblico possibile e per farlo dobbiamo affrontare le loro obiezioni come sta facendo lui in questo caso la verità è che sei sotto su una vita di stress pensaci la maggior parte delle donne che conosco erano molto più magre quando erano più giovani proprio come loro e io forse non eravamo molto snelle ma stavamo bene e lo stress più grande allora era decidere quale gonne indossare ma poi siamo diventate grandi se sei come me probabilmente hai iniziato a sperimentare lo stress familiare come impedire ai tuoi figli di litigare cercare di convincere i tuoi bambini di tranne ad andare a letto in tempo innumerevoli appuntamenti dal dottore oltre allo stress da lavoro scadenze crescenti capi esigenzi spostamenti quotidiani oh e non dimentichiamo lo stress più grande di tutti il parto in altre parole hai sperimentato molto stress ogni singolo giorno quindi stai sperimentando stress guarda ti metto degli esempi degli esempi in cui si può riconoscere la maggior parte delle persone ok ed è interessante come mette sempre rileva il fatto che una volta stavano bene a parte questa frase che può superare l'obiezione ma io sono sempre stato in sovrappeso quindi non eravamo slelle ma stavamo bene però diciamo che il 90% probabilmente del suo target una volta era in forma adesso sta cercando di riconquistare quella forma lì in altre parole hai sperimentato molto stress ogni singolo giorno e non importa quanto grande o piccolo sia lo stress fa sì che il tuo corpo pompi più cortisola nel tuo corpo mantenendo un interruttore per la perdita di peso su off interessante questa parte ok si ricollega sia alla headline che parla di questo interruttore di all harmony sia alla parte superiore in cui si dice ok questo interruttore per perdere grasso rallentando l'ateroide il tuo metabolismo ecco perché diventa così difficile perdere peso con l'avanzare dell'età tutto questo stress ha ancora effetto ok qua giustifica diciamo che le persone si chiedono ma perché il metabolismo rallenta quando si diventa anziani perché è così difficile perdere peso quando si superano i 40 anni ok qua ti spiega la ragione è il cortisolo questa era la ragione certo la balanza si muoverà se guardi cosa stai mangiando ti costruisci a fare allenamenti intensi ogni mattina ma sai una cosa anche l'esercizio intenso sta inondando il tuo corpo di cortisolo secondo uno studio pubblicato sul giornale di collagione e investigation questo spiega perché perdi 2,5 kg ma li rimetti subito appena smetti di fare esercizio ok quindi il problema anche l'esercizio l'esercizio non basta questo è quello che stiamo dicendo e non è tutto un altro studio dell'università della California ha dimostrato che la quantità di cortisolo nel tuo corpo aumenta con l'età quindi più invecchi più ormone dello stress devi lavorare per restare il tuo metabolismo devi produrre per restare non so must work ok più invecchi più ormone dello stress hai che arresta il tuo metabolismo notate ragazzi che si mette sempre una fonte scientifica questo numerino qua è la fonte scientifica per lo studio eccetera qua è interessante che metti intenso la parola intenso perché l'esercizio in generale non è sufficiente per scatenare una risposta importante di cortisolo mentre un esercizio intenso effettivamente anche tipo troppo caldo questa roba qua può creare diciamo problemi e lui lo spiega con una semplice parola inserisce questa parola che sembra così casualmente l'esercizio intenso ma in realtà fa tutta la differenza nel mondo perché se non ci fosse stata questa parola probabilmente sarebbe stato falso questo questa situazione beh forse perché c'è il termine non dare però comunque cioè sembrava un po' zazerata ma andiamo avanti il cortisolo aumenta con l'età quindi ho trovato un altro studio che dimostra il suo punto ma in altre parole è come se tutto stesse cercando di impedirti di perdere peso quindi qua un riassunto di tutto quello che ha detto prima ma se speranza basta premere l'interruttore bioarmoni e guardare come il grasso inizia a sciogarsi dal tuo corpo interessante ancora una volta che gli ricorda sempre la speranza mi sono seduta e lì sbalordita il dottore mi aveva appena raccontato l'altra metà della storia non si trattava solo della tua tiroide il cortisolo era il vero e innegabile motivo per cui il metabolismo era così basso e perché non riuscivo a perdere peso indipendentemente da quello che cercavo di fare ancora una volta qua ricapito la cosa a ok ragazzi piccola pausa e ora ritorniamo a bomba su queste sales quindi siamo arrivati al cortisolo gli ho chiesto come faccio a capovolgere l'interruttore bioarmoni dottore quindi capovolgere quindi accendere il bottone mi aspettavo che dicesse che avevo bisogno di antidepressivi per combattere lo stesso scotivando la vita forse qualche altro farmaco sintetico per mediare tutto il cortisolo che ho prodotto in una vita ma il dottor Stelling mi ha detto che era molto più facile di quello che pensassi vedi aveva passato mesi a ricercare esattamente come attivare l'interruttore in realtà dice di essere l'unica persona aver mai fatto questa ricerca ha esaminato studi medici dopo studi medici dalle istituzioni di ricerca più all'avanguardia come Harvard Stanford John Hopkins e Yale quando ho trovato qualcosa di promettente ha lavorare ha iniziato a lavorarci con i pazienti nelle sue cliniche eppure niente ha funzionato ogni volta tornava ai libri fino a quando non ha scoperto uno strano gruppo di piante naturale descritti in antichi libri di testi di medicina e recentemente riscoperti dai ricercatori allora cosa ha fatto in questa parte qua è interessante vedere che ci sono delle sfide il dottore non ha immediatamente scoperto la soluzione ha il problema ma ha dovuto farsi il mazzo fondamentalmente in più è l'unica persona nel mondo che conosce questo segreto quindi lo decommodizza nel senso non è più un dottore come gli altri ma è qualcosa di speciale in più questa parte interessante un gruppo di piante naturali risolve le obiezioni chiaramente di qualcosa di sintetico e dice descritti in antichi libri di medicina quindi una cosa è antica viene utilizzata nell'antichità se è sopravvissuta la prova del tempo allora un motivo c'è e significa che funziona e in più sono state riscoperte i ricercatori quindi interessante questo modo di buttare giù la descrizione una di queste piante ha tirato la sua attenzione per le sue proprietà antistress provate così ha iniziato a condividerla con i suoi pazienti quasi subito l'hanno chiamato stupidi dei risultati anche se il dottore mi ha detto che c'era un problema godersi il peso i risultati di perdita come hai visto non puoi semplicemente tagliare la pianta muscolare con il tuo stufato serale devi prima estrarre un liquido da esso se vuoi sciogliere il grasso al tuo corpo devi estrarre un liquido da esso pochi istanti dopo aver spiegato questo il dottore mi ha chiesto se potevo parlare con lui sono rimasto di poco sorpreso mi ha detto che c'era qualcosa che voleva mostrarmi così gli ho detto che andava bene e ha detto che mi avrebbe richiamato un attimo dal suo cellulare pochi istanti dopo mi ha richiamato eccetera eccetera quindi come vedete ragazzi la storia continua ad andare giù per le lunghe adesso magari non leggiamo tutto quanto cerchiamo di afferrare diciamo i concetti centrali tanto la parte più importante l'abbiamo visto che era quella dell'inizio quindi adesso vediamo i blocchi successivi di che cosa parlano prima di tutto qua continuo a parlare di questa pianta che parla cioè che aiuta a risolvere il cortisolo il problema del cortisolo alto qua risolve le obiezioni non è importante quanti anni hai non è importante eccetera eccetera questa roba funziona poi si parla di gocce quindi gocce di questo liquido al giorno per azionare il tuo interruttore bioharmony bello che ripete continuamente il nome del meccanismo unico questo interruttore bioharmony quindi non lo dice solo nella headline ma continua a ripeterlo per tutto il pezzo del copy quindi qua continua ad andare avanti con la descrizione quello che ha fatto quello che non ha fatto ho provato il dottore mi ha inviato un campione per provarlo quindi abbiamo l'eroe che sta provando la soluzione qua descrive in maniera estremamente vivida ragazzi fateci caso come se fosse un romanzo cioè ho aperto la bottiglia al tavolo della mia sala da pranzo ho aperto e l'ho provato no al tavolo della mia sala da pranzo ho schiacciato il tubo per aspirare una goccia cioè proprio qui il tubo si chiama il contagocce dai però sono belli dettagli che hai inserito dentro cioè come un scrittore di romanzi addirittura ho lasciato la lingua e ho spermato una goccia qua invece c'è una lezione e la lezione è dimostra quanto è semplice utilizzare il tuo prodotto semplicemente descrivendo ogni singolo dettaglio di quello che fai uno avrebbe potuto dire ok prendi una goccia in bocca ok avrebbe potuto dire questo assumi la goccia per via orale no ho alzato la lingua e ho premuto una goccia quindi i dettagli sono proprio prova di idiota in qualche modo andiamo avanti poi i primi risultati ah no ecco questo è interessante all'inizio nessuno nessun risultato ok ho perso solo una singola libra e poi un'altra e poi un'altra aspetta no vediamo sopra con la stessa messina mi sono sentita così rilassata anche se uno dei miei figli era malato in effetti mi sentivo così calma che pensavo fosse solo un effetto placebo quindi risolve l'obiezione si vabbè questo è solo effetto placebo cioè nel senso sei tu che è con la tua mente diciamo ti sei portata a casa questi risultati ma non è detto che siano dati dall'integratore eppure con la stessa e quindi risolve l'obiezione eppure con la stessa sensazione di rilassatezza continuò giorno dopo giorno smisci completamente ad obitarne mi ha cominciato a guardare davvero l'ora di vedere la successiva bilancia credo e così è stato all'inizio ho perso un singolo libro eccetera eccetera alla fine ho perso peso ho perso peso quasi sono il primo dopo solo un mese dopo ho preso il controllo il mio controllo bioharmony ero giù di 8 libri quindi bello sempre continuamente battere chiodo su questo meccanismo unico interruttore bioharmony ragazza non ci avrei creduto se non avessi potuto vedere i cambiamenti in corso con i miei occhi anche questo modo di parlare no quindi è molto intimo eccetera eccetera poco poco la mia vita inizio a cambiare quindi qua sono i risultati a questo punto avevo perso gran parte di grassi in eccesso che mi portavo in giro come un sacco di pietre bello come un sacco di pietre grasso che mi portavo in giro come un sacco di pietre bellissimo questa immagine quindi similitudini a tutta randa in effetti non avevo un bel aspetto da quando avevo 20 anni la mia pancia era piatta potevo vedere gli addominali le mie braccia erano strette come le ricordo e potevo persi strette qua sottili magari e potevo persino entrare nei jeans che non avevo toccato da quando ho dato alla luce il mio primo figlio fantastico anche questo che è molto concreto ogni donna o quasi molte donne diciamo che hanno quei jeans che vogliono utilizzare qua proprio la specificità è meravigliosa sembravo sembravo hot quindi sembravo figa sto attraversando la strada quando una donna mi ha afferrato non pensavo di contarti qui Sofie all'inizio ero confusa poi ho capito che stava succedendo e volevo saltare su e giù che è quindi la scambiata per la sua migliore amica poi qua la storia che finisce in maniera fantastica mio marito è intervenuto sì mia moglie è molto è super sexy quindi c'è diciamo un picco di emozioni ok quindi adesso è raggiunto l'eroe ha raggiunto il suo obiettivo eccetera eccetera non sono un caso speciale ho una tantum le donne in tutto il paese stanno assistendo alla stessa meraviglia perdita di peso che ho io quindi qua risolve l'obiezione ma funzionerà anche per me eccetera 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 stai chiedendo queste goccioline assieme al tuo Be Harmony Swift con zero effetti collaterali negativi inoltre chiunque può permettere soprattutto è stato progettato per tutti eccetera eccetera la svolta Be Harmony Swift ho portato a rigorose prove scientifiche andiamo avanti qua abbiamo degli studi che vengono citati qua è interessante il fatto che mette prima la sua storia e poi mette gli studi chi è da un certo punto di vista è intelligente perché cioè prima ci si rivolge la parte emotiva del cervello la parte emotiva del cervello la ganci con le storie e poi dopo invece per razionalizzare la diciamo il picco emotivo le emozioni e tu gli porti delle prove scientifiche e ti rivolge alla logica fondamentalmente quindi prima storia e poi prove scientifiche di solito però non si usa fare questo nella SES di solito ci usa ok mi sono imbattuto in tutte queste ricerche tutta questa scienza che è un po' in realtà l'ha sfiorata prima e poi alla fine l'ho provato nella mia vita e ho tenuto questi risultati mentre qua ho fatto un po' di scienza poi dopo la storia fine della storia guarda questo Bio Harmony Swift funziona perché sono tutte queste prove scientifiche che adesso ti mostro ba 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 qua tutte prove scientifiche su il cortisolo mi dite di donna cometano ho perso il loro fastidioso grasso puoi farlo anche tu chiunque poteva il proprio interruttore ecco qua gli ha condiviso anche l'email che ha girato a questo dottor Sterling mi guardavo nello specchio e potevo a fatica a riconoscermi invece di vedere una persona sovrappeso e infelice ho visto una donna bellissima e snella mi sono sentita così felice che ho quasi pianto volevo voglio che tutti si sentano in questo modo perché è come perché tutti dobbiamo amare dovremmo amarci quindi possiamo renderlo disponibile ogni persona in America eccetera eccetera è qui che introduce la formula unica Bio Harmony quindi la prima volta che si introduce il prodotto Bio Harmony Advance di Science Natural Supplements lascia che te lo dica direttamente al mio corso se vuoi iniziare a perdere piedi di grassi velocemente per rimpicciolire la pancia e rivelare la definizione sexy che non vedevi da anni per rimuovere il grasso fatigioso dal collo dal mento e guance guardate la specificità qua si rivolge chiaramente un target che abbastanza chi li da perdere se ha molto grasso anche su mento guance eccetera facendoti sembrare e sentire anni più giovane però molto molto bello cazzo questo copywriter quanto riesce a dimensionalizzare credo che questo sia fosse una delle sue skill migliori riuscire a dimensionalizzare portare i benefici che potrebbero sembrare astratti molto concreti farli proprio visualizzare nella vita del potenziale cliente quindi questa ragazza è una delle lezioni dal mio punto di vista più importanti di queste interesse newsletter quindi creare una comunicazione di impatto ed efficace tutto a proposito di immagini vivide e concrete per tonificare le tue braccia finalmente metterle a mostre in estate bioharmony advanced è la tua soluzione è l'unico prodotto al mondo quindi l'unico prodotto al mondo specificamente è progettato con il segreto bioharmony swiss ad otto stelling questo è il meccanismo unico e poi ha collaborato con esperti science natural supplements per portare questa svolta nelle mani di quante più persone possibili bla 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 così bene che in effetti potresti vedere la differenza in pochi giorni da ora potresti vedere la differenza in pochi giorni da ora non è che la vedrai e potresti vederla quindi questo per pararsi dal punto di vista legale non importa la tua età peso cosa hai provato prima in conclusione credo che funzionerà anche per te in effetti la prima cosa che noterai è che ti sentirai calma e spensierata proprio come quando eri giovane qua un po' di future pacing gli fa immaginare cosa proverà quando inizierà a utilizzare il prodotto in modo da rendere più appetibile il fatto di comprarlo e di utilizzarlo successivamente vedrai la bilanza muoversi ogni giorno in più che passa ti guardrai allo specchio e noterai come il grasso sembra svanita dallo stomaco dalle braccia e credimi non c'è niente di meglio che vedere il tuo peso indesiderato sciogliersi dal tuo corpo noterai un rimbalzo nel tuo passo questo non so forse è un ritorno al passato sei più felici i dolori con cui le tate sentiranno meno e forse scopriranno del tutto la mia parte preferita è la più grande promessa dottor Sterling in soli 7 giorni utilizzo i tuoi amici familiari e colleghi inizieranno a notare un cambiamento interessante potente le altre persone vedranno un cambiamento non solo te le altre persone non potranno ottenere i complimenti ti chiederanno sicuramente il tuo segreto quando glielo dici non crederanno sia così facile quindi le altre persone non crederanno che il tuo segreto sia così facile non tu che non credi che può essere così semplice no le altre persone non crederanno il tuo segreto notate la sottigliezza dal punto di vista psicologico di questo passaggio non è lei che ha obiezioni con l'autore di questa sales ma sono le altre persone che avranno obiezioni sui risultati che avrà il nostro prospect ok questo è molto potente questo passaggio bla 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 l'interruttore bioharmony solo il fondamento questa forma di magliette ricca è di 14 incredibili sostanze nutritive per eliminare il grasso quindi fino adesso ha presentato solo un ingrediente se non erro qua abbiamo saltato però credo che sia abbia presentato un solo ingrediente dell'integratore e non ecco il Panax la pianta Panax esatto quindi solo un ingrediente però che dovrebbe essere abbastanza unico quindi dovrebbe essere difficile trovare su Amazon però per rendere il prodotto chiaramente ancora più differente ci sono anche altre sostanze nutritive altri principi attivi che hanno utilizzato e hanno tenuto come bonus quindi sino adesso però ho già presentato il prodotto tutti questi benefici eccetera eccetera ma in realtà non è la sola cosa ci sono altre sostanze nutritive altri principi eccetera eccetera e qua gli spiega quali sono il primo nutriente bonus è uno dei miei preferiti scioglie grassi direttamente al tuo corpo si chiama EGCG ed è un composto speciale che si trova alcuni tipi di tè la bla 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 secondo bonus Bio Harmony i prossimi due nutrienti lavorano insieme per questo nutriente bio eccetera eccetera qua gli fa la descrizione di tutti i più importanti li descrive e gli altri invece li mette giù in maniera più diretta al dunque qua si mette l'immagine del prodotto allora con la sua volta i Bio Harmony Switch e gli altri 14 altri potenti ingredienti che hai visto puoi finalmente perdere chili velocemente eccetera eccetera cosa vedrai quando ti guardare allo specchio tra un mese voglio che siamo il più onesti e sinceri possibili quindi devo dirtelo mi spezzerebbe il cuore vederti perdere questa opportunità perché la verità è che se oggi non metti le mani su Bio Harmony Advanced non sono sicuro di cosa non sono sicuro di quello che cambierà con ogni mese che passa potresti ancora essere prigioniere di un grasso in eccesso indesiderato potresti ancora guardare in basso e vedere il tuo stomaco gonfio e potresti sempre guardare le tue vecchie foto di facebook desiderando di essere la stessa donna snella le tue braccia le tue gambe potrebbero gonfiarsi ancora di più finché non puoi indossare la tua camicetta e i tuoi pantaloni preferiti e tutti quelli che incontri potrebbero avere lo stesso sguardo negli occhi che pensano che ti sei lasciato andare fantastico fantastica questa parte che sta dimensionalizzando diciamo la parte negativa ancora fateci caso non hai inserito la call to action ancora non hai detto compra qua però c'è già il bivio nel senso qui ti dice già ok se tu lasci andare questa opportunità avrai tutte queste conseguenze negative non è che gliele sta tirando addosso è semplicemente ok continuerà la tua vita ti perseguirà la tua vita quindi sono credibili queste immagini che gli sta creando Dio sa spero che tu non provi mai la mia vergogna di tutti in una stanza che ti fissano nel tuo momento più vulnerabile imbarazzante eppure non è necessario che sia così eccetera eccetera quindi ok botte ok bastonate e adesso invece gli da della speranza la carota ok con l'aiuto to storytelling puoi combattere il cortisone iniziare subito a perdere peso bla 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 abbiamo 137 bottiglie confezione rimaste quindi scarsità ma devi agire prima che finiscono le scorte eccetera 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 quindi scarsità papà e questi ingredienti all'interno di bioarmi advance più a lungo li usi più grasso puoi vedere sciogliersi più rinvigori tutto il meraviglismo gli ormoni tiroidei quindi in poche parole qua gli sta dicendo dovresti agire cioè dovresti comprare più confezioni adesso lo vediamo è così potente a vedere che le mie sorelle si fanno avanti prendono il loro controllo dei loro corpi della loro bellezza fisica ovviamente con così tante donne che scelgono a tirare più confezioni di bioarmi advance alla volta questo spesso significa che la domanda a volte supera l'offerta quindi ancora una volta scarsità urgenza bla 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 guardate quanto cazzo di pezzo di coppia cioè 37 confezioni non è che dice ok acquista adesso no c'è tutta questa parte qua guardate quanta roba porca puttana se questa è una pagina intera vediamo che cosa dice poi quindi benefici vende così tanto dallo scioglio di odinare più confezioni dottorostelli e team supplement sono sempre a rischio di rimanere senza confezioni che significa che le donne sono costrette a aspettare fino a tre mesi prima che venga prodotto il loro lotto successivo e mi dispenserebbe che che questo accada immaginate immagina di essere finalmente in grado di buttare fuori quel grasso indesiderato come si sta mettendo da parte un umido un'umida coperta pustolente pustolente bella anche questa immagine ok lui lavora proprio di brutto con le similitudini ok quindi ancora una volta per dimensionalizzare al massimo l'utilizzo di similitudini è un'arte ok è molto molto utile e potente in questo caso in questo caso appunto paragona il grasso indesiderato con un'umida pustolente coperta fantastico proprio ti fa visualizzare il mettere via questa questa roba qua liberarti del grasso in eccesso quando gli crei un'immagine così chiara Pugolotone su questo sito per tenere l'approvvisamento del mese successivo e vedi un messaggio in grande nell'angolo in alto a destra che dice esaurito non vale nemmeno la pena rischiare così ho parlato con le dotto sterling ho promesso di riservare il prossimo lotto per le persone che ordinano tramite questa lettera perché se sei una delle 137 persone che ordinano oggi potrei pronotare fino a 6 bottiglie bioarmin advanced quindi quello che sta facendo sta vendendo più confezioni ok quindi perché vendergli una sola confezione per avere il massimo possibile il ritorno sull'investimento sul traffico diciamo per guadagnare di più il più possibile da un singolo click su questa pagina chiaramente devi poter vendere anche a persone che sono disposte a spendere di più quindi una, tre sei confezioni questo è quello che si utilizza di solito negli integratori quello che utilizzano anche loro quindi supponendo che tu non vada out of stock della sua parte la grande notizia è che bioarmin advanced decidi investire in questo momento più risparmi vedi mentre bioarmin advanced ha un presto al dettaglio suggerito i 149 dollari che è un vero affare di per sé solo su questa pagina web avrà una fortuna completa i sei mesi per solo 29 dollari a bottiglia ho anche convinto di offrire uno sconto anche su una formula di un mese o tre mesi non è così grande non è così grande come uno sconto di sei bottiglie ma è comunque un bel risparmio quindi praticamente vende prima i sei mesi quindi le sei confezioni e poi gli dice guarda se hai anche uno sconto anche su qual'altra roba la butta giù in maniera più veloce però oh e se e so quanto possa essere fatissuto di ordinare qualcosa online solo per un debitamento automatico un mini mese eccetera eccetera non ci sono debitamenti automatici qua ancora non ha messo la call to action quindi guardate quanto va a fondo la falsa di chi dice cazzo ma la gente si annoia devi mettere la call to action in alto questa è una sales da 2 milioni di dollari al mese e guardate quanto è a fondo la call to action tra poco ci arriviamo qua si è messa la garanzia quindi ok è garantito che in se lascio gli regressano il giro di poche settimane qua si è messo la garanzia qui gli spiega se vogliono 3-5 giorni per farla arrivare quindi vai avanti prendi le fai quindi gli spiega cosa devono fare metti le gustoline sotto la lingua fallo ogni mattina otterranno le riferenze ogni giorno che passa ti sentirai più rilassata che mai il grasso del tronocollo si sgonfierà le tue braccia le tue gambe si dimagriranno e il peso è rimasto il peso è rimasto staccato alla panza e si scioglierà entro il primo mese le persone diranno che non sei mai stata così bella dopo 3 mesi le persone staranno a scambiarti per una donna della metà dei tuoi anni saranno sorpresi che una mamma bollente come te sia così bella i tuoi amici, familiari colleghi ti supplicheranno condividere con loro con loro la tua bottiglia di bioarmi in advance in effetti pagheranno a qualsiasi prezzo quindi gli fa visualizzare tutto quello che succederà e dopo 6 mesi se vivi in una città universitaria come me non sorprenderti se un confratello un confratello se un altro ragazzo cerca di chattare cerca di flirtare con te certo non riuscirò mai con un uomo più giovane ma è un bel complimento ok è bella bella questa parte però avere il potere di poterlo fare cioè nel senso attrarre l'interesse di gente di uomini molto più giovani in maniera molto elegante però la metto giù non riuscirò mai però è un bel complimento da ricevere tuttavia se non sei stupita al 100% se la tua famiglia e i amici non ti dicono quando sei fantastica allora Science Lateral Supplement si ha promesso di offrire un rimborso completo e immediato in qualsiasi momento entro i prossimi 180 giorni che utilizzi bene la mia advance non ti chiederanno perché in poche parole paghi solo se sei totalmente convinta che funzioni per te va bene quindi effetto l'ordine di advance eccetera eccetera qua ci sono i prezzi 49 29 39 eccetera eccetera non rischi nulla qua ricapitola l'offerta credo migliori risultati possibili se hai coperto la garanzia si qua ricapitola velocemente l'offerta ps prima che questa lettera possa spedita migliaia di donne americane come te l'ho migliorato le mie amiche e le mie famiglie alcuni loro me la possono ah quindi semplicissimo ok call to action piccola ricapitola dell'offerta di nuovo call to action e poi FAQ ok le domande frequenti qual è di nuovo la svolta Be Harmony Switch quanto tempo si guarda per i risultati funzionerà per me e se non funziona per me come posso ordinare Be Harmony Advanced e basta riferimenti scientifici 23 studi e basta solo 3 call to action e tutte veramente in fondo in fondo in fondo affinché chi ci arriva è super qualificato allora vediamo un attimo anche il carrello e poi andiamo agli upsell ok in questo momento non so qua vedo vedo un po' di casino qua dice non è avviabile però il tuo ordine sarà per 8 minuti non so forse questo è un errore che potrebbe dipendere da dove sto cioè dal dal mio IP forse non lo so comunque current avviabile low quindi urgenza urgenza di brutto 100% money back guarantee quindi garanzia e poi c'è il tutta sta roba qua ok il form l'order form va bene allora questa è la prima upsell il primo upsell è allora c'è il numero clienti informazioni e spedizione opportunità di aggiornamento quindi opportunity sì opportunità di aggiornamento dell'ordine e poi non tanto sommare ma ricapitolo allora cosa gli si offre gli si offre semplicemente più confezioni ha acquistato una confezione tre confezioni o sei confezioni di questo integratore comprane altre sei con un prezzo di 19 dollari a bottiglia 19 dollari a confezione significa 10 dollari in meno a confezione perché prima era 29 dollari a confezione quindi c'è lo sconto cazzo è molto importante quasi un 50% questo è interessante ok lo sconto che gli fa successivamente molto importante qua aspetta il tuo ordine non è completo non premia il pulsante indietro che potete trovare le davide sull'autocarta un'offerta speciale per i nuovi clienti vediamo un attimo volevo vedere la versione mobile come veniva anzi no qua sopra sviluppo vediamo com'è ok vabbè prima c'è aspetta il tuo ordine completo un'offerta speciale per i nuovi clienti eccetera eccetera senza rischi sicuro sicuro e fidato fai scorti biaromine advance per solo 19 dollari a bottiglia a confezione questo è il prezzo più basso in assoluto che potrei mai per biaromine advance per i nuovi clienti a futuri aumenti di scorti di prezzo di usuramento scorti risparmi 780 dollari al dettaglio continuo a leggere tutti i dettagli qua non dice qual è il prezzo totale 19 più 19 più 19 più 19 più 19 più 19 che sono 6 dovrebbero essere 115 una roba del 114 dollari ma ti dice solo 19 19 dollari a confezione che fa sembrare più basso il costo crittografie sicure eccetera eccetera qua c'è la faccia del del dottore sono di nuovo il dottor Sterling molte persone mi hanno detto che sono preoccupato di non poter ottenere il PBR messo in futuro quindi capito di cosa si tratta gli ingredienti è difficile da ottenere eccetera eccetera non bisogna interrompere la fornitura per ottenere benefici mi sembra continuo ad ordinare sempre più no semplicemente scarsità 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 sono preoccupato che possono esaurirsi quindi è importante che tu lo usi ogni giorno non devi mai fermarti dopo aver acceso l'intruttore Biharmini l'ultima cosa che vorresti fare è smettere di usare Biharmini e tornare come eri prima giusto prima però che Biharmini non è disponibile nessun negozio di dettaglio l'ultima cosa che vorrei è che inizia a perdere peso dopo l'altro e provare un profondo senso di sollievo solo per scoprire che abbiamo esaurito tutto interessante questa parte non si trova nessun altro sito con la concorrenza tra virgolette di Amazon allora le persone pensano che possono trovare le stesse cose anche da altre parti mentre lui sottolinea che non è così questa è la cattiva notizia la buona notizia che a causa della quantità di Biharmini invece che è appena ordinato solo su questa pagina privata puoi fare scoperta di Biharmini Aggiungendo 6 bottiglie 6 confezioni a tuo ordine per soli 19 dollari a confezione sono solo 63 centesimi al giorno quindi qua sto giustificando il prezzo e anche un risparmio di 780 dollari sul normale prezzo a dettaglio di Biharmini Aggiungendo e qua mi capitola spese di spedizione gratis profita subito di questa offerta aggiuntiva garanzia di 180 giorni antiproiettile bla 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 gli ripeto la garanzia e aggiungo il mio ordine è interessante è interessante il fatto che non specifica da nessuna parte quanto forse deve ricapitolare vediamo l'ordine se clicchiamo se succede questo non lo so se lui deve rimettere tutti i dati quindi rivedere il prezzo però credo che sia più probabile che questo sia un one order click quindi uno click e gli aggiunge automaticamente il prezzo dei prodotti però senza avere senza avere il prezzo complessivo di quello che pagheranno perché 19 confezioni però devi moltiplicarle per 6 non ti fa il calcolo per te non so se questa cosa porta la mentele in assistenza clienti secondo me è probabile molto probabile anzi però è interessante vedere come stanno facendo però qua c'è anche il no grazie guardate come scrive no grazie capisco che questa è la mia unica opportunità per accedere a questa offerta speciale mi va bene perderla invece se sono sbalordito i risultati che ottengo usando bioarmy advance come tante migliaia di persone prima di me quindi sta già dipingendo il fatto che otterrà dei risultati il segna diciamo stando per scontato che otterrà risultati perché tante persone li stanno già ottenendo in futuro lo deno solo 149 dollari per confezione invece di 19 dollari il 149 ragazzi se ve lo ricordate è il prezzo di listino ok quindi non è il prezzo scontato a cui glielo vendeva in front end ma è il prezzo di listino 149 dollari a confezione interessante questa dicitura che gli riprende semplicemente il prezzo di listino invece di 19 dollari per confezione come sto facendo come sto avendo offerto oggi passerò a questa opportunità per sempre passerò a questa opportunità per sempre se io clicco no ok mi rimanda su questa pagina qua allora andiamo un attimo che sarebbe il downsell e il downsell in realtà l'ho messo in un'altra scheda che adesso l'apriamo che è questa aspetta il tuo ordine sì ancora questa rimane la stessa headline aspetta il tuo ordine non è completo non premere stessa identica cosa la parte super identica la header e l'headline sei bottiglie di bioharmony advance sono troppe puoi comunque assicurati uno sconto enorme su bioharmony advance ma con tre ulteriori confezioni invece di sei presto per confezione nuovi clienti risparmio 19 dollari quindi 390 su quanto del dettaglio quindi offre la stessa roba solo che gliene offre tre anziché sei qua riprende sono il dottor sterling capisco tre confezioni potrebbero non essere non so che avevi in mente ma so anche che vale la pena combattere per alcune cose ho visto in prima persona quanto può essere una benedizione bioharmony advance come un'ottima soluzione per bruciare i grassi non solo per prendere prendere sul personale ma per condividere con la tua famiglia bla 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 qua tutti gli ingredienti a qua gli ricorda la scarsità fondamentalmente solo su questa pagina poi che starà 19 dollari a confezione qua è praticamente la stessa roba quindi una sequenza di upsell easy and sweet no? semplice facile che si può fare in maniera quasi schematica quasi come un template quasi copia e incolla vai a risambiare i dettagli non sono quelli quegli upsell lunghi con video di venti eccetera eccetera una roba molto easy e da quello che sapevo che diceva Stefan converte un circa un 20% che aggiungere un 20% per 120 dollari quello era il primo upsell fate un 20% significa che aggiunge un 25 dollari di cioè di extra praticamente a ogni ordine più il downsell che non mi ricordo quanto converta comunque insomma sono dei bei soldi aggiuntivi per ogni ordine aumenta la transazione media di abbastanza quindi è un'ottima sequenza ok ragazzi quindi per questa analisi è tutto è stata abbastanza pesante forse fatemi sapere se non è troppo pesante questo format perché sono andato veramente nei dettagli ed è stato lungo non so datemi un feedback ditemi se la vorreste un pochino più snelli questi episodi oppure se vi piacciono così più completi diciamo sono più istruttivi però capisco che se non siete dei nerd del copywriting se veramente non mangiate diciamo pane copywriting potrebbero essere un pochino troppi non so se degli episodi del genere diventeranno mai popolari però ragazzi fatemi sapere io semplicemente io mi diverto a fare ste robe quindi ascolto quello che ascolto i vostri feedback e andiamo avanti così ciao ragazzi grazie ancora per aver visto questi episodi noi ci vediamo al prossimo grazie a tutti grazie a tutti